benvenuti a quarta di copertina oggi parliamo di arte oltre che di letteratura e lo facciamo con un artista nota a livello nazionale castella montese d'adozione maria teresa rosa è venuta a trovarci qui in trasmissione per presentare un'opera non recente ma sicuramente interessante perché è un ibrido tra arte immaginazione e letteratura che ha coinvolto più autrici e un'editrice donna il libro è la donna che diventerò poi ci spiegherà l'autrice di questo progetto da dove viene questo titolo io intanto vi ricordo che anche voi potete venire a quarta di copertina per un'intervista di 30 minuti da poter condividere sui social sul vostro sito internet e quant'altro in tutta sicurezza perché si entra con la mascherina e in studio le interviste vengono realizzate rigorosamente con un plexiglass di separazione quindi vi aspettiamo per partecipare basta contattare me all'indirizzo debra bocchiardo chiocciola gmail.com bene maria teresa rosa castella montese d'adozione una carriera d'artista molto lunga parlaci un po della tua vita di artista tra l'altro so che tu recentemente sei felicemente in pensione ma questa pensione non non ti ha escluso dal mondo dell'arte anzi stai dedicando finalmente ai progetti che magari per tanti anni hai messo da parte per poter vivere del mestiere di artista sì è esattamente così io mi sento in questo momento per quanto la situazione sia critica per le ragioni che noi tutti sappiamo mi sento privilegiata proprio perché finalmente posso nell'ambito della mia attività selezionare le cose che mi interessa fare e perché credo che chi svolge un lavoro come il mio non vada mai definitivamente in pensione quindi si tratta semplicemente di cogliere le opportunità che ci sono sviluppare una ricerca artistica che nel corso della mia vita ho mandato avanti e però magari in modo frammentario adesso invece posso coltivarla in un modo più diretto e quindi come dicevo mi sento privilegiata in questo momento della vita e anche molto più rilassata. Ecco tu sei originario esattamente di dove? Io sono nata a Torino mio padre però era di Castelli una città di antica tradizione ceramica in realtà un piccolo borgo sono mille abitanti dell'Abruzzo in provincia di Teramo sotto il Gran Sasso con una tradizione millenaria però estremamente pregiata Castelli è una città produttrice di maioliche molto raffinate e intorno al 1500 1600 anche prima lavorava per le famiglie nobili romane gli Ossini Colonna, Farnese tutte queste ditte qua era proprio un luogo di produzione molto raffinata e molto pregiata. Ecco tu in un certo senso quindi sei una figlia d'arte quanto ha inciso questo nella tua formazione di artista? Credo che abbia inciso molto più di quanto io avessi consapevolezza agli inizi perché mi sono resa conto che la presenza di mio padre che purtroppo è mancato relativamente giovane aveva solo 51 anni ha però mi ha dato basi veramente solide in parte dal punto di vista tecnico io ho l'impressione di non aver mai dovuto imparare a fare la ceramica anche se poi ho frequentato l'istituto d'arte di Castellamonte proprio sul consiglio di mio padre ma ho come l'impressione alcune cose di averle sempre sapute non dico fare ma sapevo come si facessero perché il fatto di vederle fare fin dall'infanzia me le ha un po' rese naturali un po' quasi congenite ecco e quindi ha contato poi ha contato molto questo aspetto tradizionale che mio padre sapeva fare magistralmente nel senso che lui era un ceramista completo nel senso che svolgeva tutte le fasi della lavorazione come un po' faccio anch'io adesso dalla tornitura alla modellazione alla decorazione alla smaltatura e insegnava in una scuola civica a torino dove appunto si insegnava ceramica la stessa cosa faccio io e lui come fa io magari ho più approfondito perché studiare all'istituto d'arte mi ha dato gli elementi per affrontare anche l'aspetto legato all'arte contemporanea ho avuto solide basi o l'istituto d'arte di castellamonte intorno alla mia formazione estetica oltre che tecnica e mio padre però anche lui sperimentava di suo quindi una grandissima padronanza della lavorazione della maiolica in senso tradizionale ma poi sperimentava anche lui forme per un'estetica più contemporanea ecco tu sei una persona che ha sempre fatto l'artista puro l'artista vero non sei una persona che si è dedicata ad altri mestieri e poi ha fatto l'artista e quindi hai sempre dovuto far lavorare in continuazione la tua ispirazione quindi creare dal blocco di terra quello che volevi diventasse questo blocco di terra e un bel giorno è deciso che questa ispirazione poteva diventare anche una serie di racconti come nata diciamo la prima idea legata alla donna che diventerò allora c'è da dire che io ho sempre avuto non dico un sogno nel cassetto non è esattamente così diciamo che ad un certo punto della mia vita ho deciso quale delle delle mie vocazioni dovevo seguire in modo più più totale insomma no più strutturato una era appunto la ceramica o l'espressione artistica se si vuole comunque io padroneggiavo questa questo tipo di competenza di mestiere mestiere che è la parola giusta e anche è anche molto significativa dal mio punto di vista oppure approfondire per esempio la storia dell'arte scrivere e fare questa cosa allora ora come ora magari adesso che sono in pensione potrò approfondire un po di più ma la storia dell'arte ho continuato a coltivarla così per per piacere mio personale senza però mai aver prodotto degli scritti eccetera ma questa cosa di tradurre in scrittura quello che poteva essere il significato intrinseco di una forma no che invece realizzavo con il materiale con la ceramica che mi piace ricordare si fa con la terra e la terra è il materiale archetipico per eccellenza no perché è origine e appunto archè e quindi ha un significato simbolico enorme lavorare la terra significa veramente dare forma così come in alcune religioni si dice che sia nato l'uomo pronto modellando la terra quindi io ho fatto questa cosa sempre tenendo da parte questo questo interesse mio per come dire con le parole che cos'era collegato a questo lavoro che facevo perché nasce una forma eccetera poi ci sono le esperienze di vita il fatto che sei donna che fai delle esperienze di vita quotidiana eccetera ecco questo è importante perché tu hai nel tuo passato anche un'esperienza legata proprio alle pari opportunità e forse questo ti rende più facile lavorare con altre donne e pensare a un progetto tutto al femminile sì sì esattamente è proprio così io ho avuto anni cioè idealmente sono ancora legata a questi contenuti a questo tipo di impegno per le pari opportunità delle donne io mi sento ancora così penso che non abbiamo ancora raggiunto tutto tutta la parità che dovremmo avere no non siamo sempre riconosciute come dovremmo certo che c'è una sensibilità di fondo e questo mi piace chiarirlo perché mi trovavo a parlarne proprio in questi giorni le pari opportunità non sono o il femminismo come si ama definirlo a volte senza conoscerlo in profondità non è un annientamento delle differenze quello che si vuole fare uguale o si voleva fare uguale erano i diritti ma non i comportamenti non gli stili di vita non i modelli appunto di vita quotidiani e quindi si lavorava sulle sulle sulla valorizzazione di queste differenze e per valorizzare bisogna anche conoscerle loro in parte le vivi in parte le affermino e quindi ma per affermarli deve approfondirle eccetera quindi mi dà certo una grande sensibilità in più una facilità maggiore a lavorare con le donne nel senso che mi sembra di è il mio terreno è quello che conosco è la mia vita valorizzare la differenza valorizzare la differenza perché questo è non si tratta di rendere uguali gli stili di vita non si tratta di abolire appunto le differenze si tratta invece di portarle sullo stesso piano di valore questo è importante e questo vale anche in ambito artistico naturalmente ecco come è nata l'idea di un libro che reinventa con racconti personaggi femminili famosi dell'arte o della letteratura per poi trasformarli in opere ceramiche ma è stata tutta una serie di passaggi successivi e quelli bisogna porre attenzione però nel senso che se non cogli questi passaggi nel momento in cui si verificano alcuni avvenimenti poi ti sfugge la cosa allora inizialmente devo dire io stavo riflettendo perché appunto sono poi una amo leggere sono molto interessato ovviamente alla letteratura e alla letteratura anche femminile o ai personaggi femminili che stanno all'interno della letteratura io per esempio appunto visto che arriveremo a parlarne ho sempre pensato che un autore come Ibsen avesse una sensibilità quasi sorprendente nei confronti delle tematiche femminile quasi tutti i suoi drammi hanno il centro figure femminili che lui ha identificato con una puntualità che veramente sembra appartenere ad una sensibilità femminile o un'esperienza di vita femminile e quindi ragionavo nel tempo di come tra questi personaggi della letteratura, della storia, dell'arte stessa, del cinema ci fossero personaggi che avevano dei nomi ovviamente talmente identificati appunto con il personaggio che rappresentavano da diventare degli stereotipi per cui appunto Emma Bovary un personaggio che se poi dici Emma fai sempre riferimento a quel tipo di personaggio lì a quella moglie infedele eccetera eccetera Cassandra sono tutti nomi in sé e per sé ma che collegate alle vicende di vita di un certo personaggio diventavano degli stereotipi e quindi ho cominciato inizialmente tutto subito a ragionare sul peso di questi nomi ho detto ma portare un nome così è pesante perché sì quando si affida a una bambina appena nata un nome così un pochino l'alone che gira intorno alla figura famosa si riverbera un pochino è proprio questo sì cioè alla fine tu carichi questa figura che e non è detto che ne subisca poi anche le influenze nel corso del tempo se ti identificano in questo modo e quindi il ragionamento iniziale era questo siccome io avevo iniziato a lavorare intorno alla produzione di una serie di bottiglie in ceramica che per chi conosce meno la storia della ceramica eccetera ma le bottiglie sono un genere che si è sviluppato nel corso del tempo e che in Italia in Italia vabbè già anche dal medioevo se si vuole però a venire in avanti intorno agli anni 50 da noi ha avuto un certo sviluppo perché sono state poste in essere delle produzioni dove venivano rappresentati dei personaggi storici eccetera magari bottiglie che poi contenevano liquori ma che comunque avevano la fisionomia di Napoleone, di Garibaldi o di altri personaggi mi interessa questo genere al femminile ovviamente perché? perché ho pensato che la bottiglia è un oggetto che contiene è un po' come la donna contiene o il vaso di Pandora se vogliamo andare sul mitologico e ragionare intorno al mito così sono nate le bottiglie indossatrici quindi la prima serie furono le bottiglie indossatrici come perché no una serie di rappresentazione dell'eleganza e della donna e della ceramica e veniva fuori questo poi a un certo punto mi sfiora questo ragionamento intorno al peso dei nomi e dico come posso collegarlo alle mie bottiglie però dandogli un significato cioè per raggiungere la forma era un aspetto ma poi bisognava che io riuscissi a estrinsecare il perché di questa forma con quel particolare viso con quella particolare e come sempre ti viene in soccorso il caso se tu lo sai osservare se non sei distratta in quel momento e allora mi trovo in uno dei miei traslochi che adesso spero di averlo ultimato che in quegli anni erano stati abbastanza numerosi mi trovo a spostare i miei libri e mi capita in mano appunto Casa di Bambola di Ibsen e mi viene da rileggerlo perché è un testo interessante eccetera e mi colpisce che alla fine del testo quando Nora abbandona il marito in seguito alle vicende che sono narrate nel dramma di Ibsen il marito cercando di trattenerla le dice beh se adesso vuoi andare vai però almeno promettimi cioè dimmi che ci ripenserai che per un domani forse ho la speranza che tu ritorni e lei ha risposto una cosa che a me è sembrata fulminante perché quasi sdoppiandosi da se stessa dice io per domani non posso prometterti nulla perché io non conosco la donna che diventerò e questo mi è sembrato veramente illuminante perché ho detto è vero e poi una cosa che riguarda tutte le vicende umane ma noi non conosciamo mai quello che saremo per cui siamo la stessa persona con lo stesso nome ma un'altra entità di lì a qualche tempo in avanti e quindi questo poi è un motivo per cui è inutile preoccuparsi cioè occuparci prima che i fatti avvengano perché poi magari quei fatti di cui ci stiamo preoccupando non avvengono e noi ci siamo agitati per nulla ecco in questo senso allora ho detto ecco dove sta come risolvo questa questione il nome resta invariato ma la vita diventa un'altra quindi ragionando intorno alle donne che avevo conosciuto nella vita preoccupandomi poco che fossero delle scrittrici ora come nel tuo caso tu lo eri come nel caso di Piera Giordano anche lei lo era Gabriella Buona ma altri non avevano mai scritto ma a me non interessava interessava la loro sensibilità rispetto al mondo alla vita il loro modo di affrontare le cose e le loro appunto differenze no? chi troppo impulsiva chi meno impulsiva chi molto ragionata chi molto astratta mi interessava questo ho formulato una lista di nomi pesanti e ho detto di scegliere e di scrivere dei racconti brevi che sono appunto quelli che costituiscono poi questa pubblicazione dodici figure di terra per iscrivere la vita da questi dodici racconti quindi quando io ho avuto dopo che le autrici hanno scelto i nomi e hanno scritto i loro racconti modificando la vita di appunto di Emma Movary di Rossella O'Hara o di altre donne con quegli elementi in mano io ho trasformato in forma quegli elementi e quindi ho creato questa collezione di dodici bottiglie in ceramica che rappresentano i dodici nuovi personaggi con i vecchi nomi dodici nuovi destini personaggi che erano stati condannati in eterno a essere degli stereotipi la bugiarda piuttosto che la sedutrice piuttosto che la donna sfortunata e poi un'editrice donna un editore donna che è Elena Verlucca che salutiamo con Ever che ha creduto in questo progetto di qualche anno fa tra l'altro e che ha debuttato proprio a un salone del libro se non sbaglio proprio così allora io ho cominciato a lavorare come dico in questa formulazione dell'idea che non è stata immediata si è evoluta e perfezionata nel tempo intorno al 2010 ci ho lavorato per due anni prima per contattare le autrici poi per raccogliere i testi poi per produrre le dodici bottiglie e quindi siamo arrivati agli inizi del 2012 dove appunto Elena Verlucca ha creduto nel progetto perché eravamo tutte al femminile l'unica figura maschile Enrico Formica che è il fotografo e poi un presentatore d'eccezione che vi ha aiutato a debuttare al salone del libro esatto vi ha, ci ha perché in questo progetto sono stata coinvolta anch'io e ho avuto il piacere di reinventare un personaggio che ho sempre amato molto che ero Stella O'Hara esatto e quindi sì abbiamo avuto il tempo era un po' stretto da quando abbiamo parlato con Elena ma abbiamo corso ce l'abbiamo fatta perché appunto il salone del libro noi ci siamo sentite alla fine del 2011 agli inizi del 2012 praticamente a maggio c'era il salone del libro abbiamo corso siamo riuscite a chiedere anche a Enzo Biffi Gentili peraltro che in quel momento era impegnatissimo con una mostra molto importante tuttavia ha scritto la presentazione perché quando ho chiesto la presentazione era ancora in corso a Torino la mostra alle OGR per il 150 enario dell'Unità d'Italia quindi insomma è stata una corsa con il tempo Enzo Biffi Gentili da grande professionista ed esperto della ceramica come si è reso disponibile pur in un frangente molto critico come tempo e quindi abbiamo realizzato il tutto e presentato appunto al salone del libro del 2012 ecco salutiamo se ci stanno ascoltando tutte le autrici che hanno collaborato oltre a me chiaramente Deborah Bocchiardo Alessandra Ariagno Gabriella Bona Silvia Coppo Daria Dadam Piera Giordano Sandrine Juvenon Gabriella Mannelli Liliana Omenia Gianna Pascarelli Elisabetta Porta e Adriana Ricca un gruppo di donne molto diverse perché io ricordo una riunione in cui io ero vestita per andare a una ciaspolata notturna qualcuno era pronto per andare a ballare il tango un'altra per andare in discoteca quindi tutta una serie di caratteristiche che hanno reso questo gruppo quanto più possibile eterogeneo ma questo mix di diversità ancora una volta come hai detto tu prima la differenza fa il valore delle cose e quindi ha potuto dare ancora ancora più valore a questa opera letteraria ceramica con splendide immagini che giustamente tu hai ricordato sono di un maestro della fotografia che è Enrico Formica il libro purtroppo sono passati alcuni anni non è più in commercio però è reperibile presso il tuo atelier d'arte che è a Castellamonte e comunque tramite il tuo sito internet è possibile contattarti sì io attualmente non ho un sito internet ho due pagine facebook la ceramica di Maria Teresa Rosa e Maria Teresa Rosa e una pagina Instagram Rosa Ceramiche dove appunto ci sono i riferimenti per per contattarmi io poi nel frattempo sono andata ad abitare sulla collina Castellamontese in frazione Spineto che però la zona è veramente già Sant'Anna dei Boschi perché quella è la zona della terra rossa di Castellamonte e quindi è un luogo che per un ceramista meglio non si potrebbe ecco La donna che diventerò è un bellissimo titolo molto fiducioso in un momento di trasformazione la trasformazione parte sempre di tutti noi perché nessuno di noi può sapere la donna che diventerà perché comunque siamo forgiati un po' tutti dal destino che ci attende quanto mai in questo momento di variabili importanti tu sei una donna che più volte si è reinventata quante volte nella tua vita hai detto chissà quale sarà la donna che diventerò allora con precisione non so dirlo ma almeno cinque o sei volte credo di averlo fatto poi mi sono reinventata mantenendo magari ferme alcune alcune caratteristiche no certamente quello che che so e che dico spesso anche a chi sia alle persone amiche ma anche le persone che frequentano i miei corsi di ceramica o che cosa ogni esperienza che ho fatto anche quelle che apparentemente sembrano più distanti tra loro mi è sempre servita e l'ho sempre riutilizzata cioè non è un luogo comune quello per il quale appunto qualsiasi impara l'arte e mettila da parte no che questa volta capita anche a fagiolo come come espressione io credo che anche le esperienze che apparentemente sembrano distanti tu vedi solo anche il mio impegno con le donne che possiamo chiamare politico tra virgolette però è riuscito a sposarsi con la mia arte e con la letteratura semplicemente perché tutto questo fa esperienza è un valore che poi diventa il tuo patrimonio e sta poi a noi reinventarcelo e a capire come utilizzarlo ma veramente ogni esperienza che si fa può essere rigiocata nuovamente e soprattutto ti aiuta aiuta a crescere te e poi anche chi riceve il messaggio ecco tu hai sempre vissuto di arte con la difficoltà che questo rappresenta però hai sempre creduto anche nel valore dei giovani nell'avvicinare i giovani all'arte la tua bottega è sempre stata teatro di corsi e di scuola scuola lavoro per ragazzi che volevano amare e apprendere e praticare l'arte ceramica l'arte in genere dare sfogo alla propria ispirazione intanto salutiamo i tuoi tanti allievi che so che continuano a seguirti quale consiglio puoi dare a chi magari ci sta ascoltando e vorrebbe fare l'artista e dice beh però anche a me piacerebbe vivere come questa persona che ha vissuto ad arte allora devo fare una premessa che ovviamente cioè ci va tanta tenacia ci va tanta tenacia perché soprattutto in Italia non è facile è paradossale perché noi che abbiamo forse una delle storie dell'arte più significative nel mondo non abbiamo un sistema istituzionale insomma generalmente amministrativo che favorisca questa cosa io se l'unico consiglio se di consiglio si può trattare che posso dare appunto è di persistere in quello che si fa crederci fino in fondo ma soprattutto non essere superficiali io credo vale per l'arte vale credo però in generale nella vita nulla può essere affrontato stando solo in superficie provandoci solo bisogna proprio immergersi bisogna se pensi che una cosa possa essere fondamentale per costruire l'identità della tua esistenza devi crederci fino in fondo paghi il prezzo perché non è gratis non è gratis paghi il prezzo però ci devi andare con tutte le intenzioni rischiando anche perché perché di questo si tratta ecco mi piace ricordare perché il tempo a nostra disposizione è sempre un po' tiranno mi piace ricordare una bella esperienza che tu hai avuto in Puglia qualche anno fa in cui tu hai trovato praticamente una seconda patria internet ci permette di essere senza confini quindi mandiamo un saluto anche a questi tuoi amici che hai trovato perché non erano più soltanto dei commintenti sono diventati soltanto sono diventati anche dei collaboratori e poi dei preziosi amici l'esperienza che io ho condotto in Puglia credo sia una delle più belle che io ho affrontato sia dal punto di vista artistica che umano che professionale io ho vinto un concorso internazionale indetto dal MIBAC dalla direzione appunto del MIBAC della Puglia che chiedeva di realizzare un progetto nelle loro città di antica tradizione ceramica che sono due Grottaglia e la Terza io sono stata assegnata alla città di La Terza che non conoscevo assolutamente un posto meraviglioso tra le gravine a 20 chilometri da Matera e ancora Puglia ma i confini con la Basilicata a 20 chilometri da Matera con questa terra di gravine meravigliosa e ho scoperto che la loro argilla lì si scavava all'interno delle gravine è stata un'emozione molto forte e ho incontrato artigiani amministratori insegnanti veramente eccezionali che hanno creduto nel progetto mi hanno accolta come se fossi stata una di loro per quanto fosse la prima volta che mi vedevano in vita mia hanno creduto al mio progetto subito sulla fiducia e ho ricevuto un supporto enorme è stata un'esperienza veramente importante e adesso loro hanno inaugurato il loro adesso già da alcuni anni il loro museo che si chiama Muma che il museo della Maiolica lì nel palazzo Marchesale di La Terza a breve inaugureranno la loro biblioteca multimediale veramente molto attrezzata eccetera e ho l'onore che loro ospitano in modo permanente le mie opere sia nella biblioteca sia nel museo quindi da committenti hai trovato in realtà una sorta di famiglia perché comunque tu ne parli con grande trasporto e grande entusiasmo siamo in un momento in cui le persone sono costrette loro malgrado a rimanere a casa avvicinarsi all'arte può sempre essere liberatorio dare spazio a un'ispirazione a un'idea alla creazione è sempre qualcosa di molto importante come è possibile per chi ci ascolta avvicinarsi all'arte alla lavorazione della terra allora purtroppo siamo in una fase in cui le scuole pubbliche si vanno spegnendo gli istituti d'arte che prima esistevano dove appunto si insegnava la lavorazione della ceramica sono andati a estinguersi per scelte ministeriali quindi di altro genere resta l'ambito appunto dei corsi privati se si vuole se si vuole o di altre scuole professionali che esistono qui e là per esempio Faenza è riuscita a far convivere sia la trasformazione dei licei eccetera e poi appunto le botteghe degli artigiani dove per i giovani sia ancora possibile fare degli stagi è possibile ancora fare dei tirocini formativi alternanza scuola lavoro questo si può fare ecco tu i corsi individuali e in sicurezza con la mascherina nel distanziamento stai continuando a farli allora io continuo a farli nei momenti in cui me lo consentono le disposizioni nazionali cioè per esempio fino in zona gialla posso farle in zona quando diventiamo in zona rossa non è già più possibile però nei momenti quindi contattandoti attraverso le tue pagine social è possibile chiederti informazioni sì il tempo sta per scadere ringraziamo Maria Teresa Rosa che è venuta a quarta di copertina ringraziamo Obiettivo News che dà spazio a questa rubrica per autori per tutti coloro che si muovono all'interno del mondo della creatività legata all'editoria quindi anche cataloghi d'arte o opere chissà legate alla fotografia vi invitiamo tutti a contattarci all'indirizzo deborabocchiardo chioccio a gmail.com e a venirci a trovare in tutta sicurezza perché ripeto l'ingresso è con mascherina e le registrazioni vengono effettuate con un separe in plexiglass il nostro studio altamente tecnologico ci permette di mascherare questo escamotage che comunque aiuta a mantenere e a rispettare tutte le normative anti-covid io vi saluto e vi do appuntamento alle prossime puntate e vi do appuntamento